Sto portando questi vaccini con la giudizia. Visto che vive a dei livelli di temperatura molto bassi e diciamo che si confronta il giorno con temperature molto umide, il problema è l'astrosi. Infatti a una certa età bisogna in qualche modo prevenirla all'astrosi, ma ha chiesto al medico veterinario di integrare nella dieta con degli ingredienti naturali per affrontare meglio la sua vita nel futuro. Perché purtroppo l'astrosi è sempre dietro la porta. Allora... Grazie a Marino Sondanile Valasco, l'allevatore che ci ha portato questi tre splendidi presentari. Grazie. 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 Grazie.